Resta ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro accaduto ieri nel Vicentino, a Valliona, dove un operaio di 44 anni è caduto da un tragliccio dell'energia elettrica. È solo l'ultimo decesso in ordine di tempo in una lista che si allunga terribilente. In Veneto 22 morti in soli 100 giorni, praticamente uno ogni quattro giorni e mezzo. Il servizio di apertura è di Ivana Godnik. Forse un malore appeso lì a 12 metri d'altezza su uno dei tralicci dell'alta tensione sul Monte Cistorello all'estremità dei Colli Berici. Forse un passo falso, il piede che scivola, perché ieri pomeriggio, qui nel comune di Valliona, la pioggia cadeva incessante. Agostino Maione, 44 anni, di Giuliano, in Campania, in provincia di Napoli, era pendente di una ditta partenopea che stava effettuando dei lavori per conto di Terna. Ditta specializzata nella manutenzione delle linee elettriche, ieri Maione si stava occupando del taglio di alcuni rami. Lavori di manutenzione per qualcuno addirittura di routine, anche se fatti a 12 metri d'altezza. La caduta, l'arrivo dei soccorsi, l'elicottero del suo, che atterra in mezzo ai campi, ma per l'operaio napoletano non c'è stato più nulla da fare. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. L'anomalia più evidente è l'assenza di dispositivi di sicurezza che avrebbero dovuto evitare la caduta di Maione. Forse la vittima se li era tolti proprio nel momento in cui era scivolato o forse non hanno funzionato. Resta il fatto che il numero delle morte bianche in Veneto, come ci spiegano la CGL di Vicenza, continua ad aumentare. Siamo estremamente preoccupati come organizzazioni sindacali perché quest'anno l'economia è in ripresa, sono aumentate le ore di lavoro e assistiamo a un aumento degli infortuni sul lavoro e purtroppo anche a un aumento degli infortuni mortali sul lavoro nella nostra regione, in tutta Italia, in particolare nella nostra regione.